I risultati della 29esima giornata di eccellenza Sicilia, Gironea. Alba Alcamo Mussomeli 0-2, Atletico Campofranco Canicattì 1-1, Centro Universitario Sportivo Palermo, Città di Casteldaccia 3-1, Dattilo Noir Parmonval 5-0, Camarat Nuova Città di Caccamo 1-2, Marsala Calcio Mazzara 3-0, Morreale Profavara 1-0, Polisportiva Castelbuono Licata 0-1. La classifica. Marsala Calcio 68 punti, Licata 65, Dattilo Noir 60 ai playoff, Nuova Città di Caccamo 58 ai playoff, Canicattì 54, Mazzara 49, Parmonval 46, Albalcamo 38, Centro Universitario Sportivo Palermo 36, Profavara 32, Mussomeli 30, Camarat e Morreale 27, Città di Castelbuono 26, Atletico Campofranco 25, Città di Casteldaccia 4, retrocesso in promozione. Infine gli incontri del prossimo turno, l'ultima giornata del campionato regolare. Canicattì Marsala Calcio, Città di Casteldaccia Morreale, Licata Dattilo Noir, Mazzara Alba Alcamo, Mussomeli Polisportiva Castelbuono, Nuova Città di Caccamo, Atletico Campofranco, Parmonval Centro Universitario Sportivo Palermo, Profavara Camarat.